A Tanto questo caldo sta uscendo subito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci siamo messi le cremine, gli altri sono scesi verso il laghetto dell'Argentella, adesso piano piano ci prepariamo, c'è il bauro bianchino che continua a scorrere già tutto spiano e ce ne andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.